8 morti per Covid in 24 ore nelle Marche intensive da zona arancione, ma sui contagi per il dottore Angelini è stato raggiunto il plateau. Il virus dilaga negli ospedali, 100 infermieri e 40 medici positive d'Ancona ad inizio anno. Record di pazienti nei pronto soccorso, oltre 16 a fermo, in sofferenza anche pesa. Con il Green Pass sulle piste da sci, Bolognola presa d'assalto. Nel weekend tanti Umbri infila gli impianti di risalita, ma i gestori lamentano il caro energia. Volley, la Lube vince, resta seconda. Calcio Serie B, Ascoli salute il difensore Avlonitis. Samb, adesso servono gli under, visi a cuore di calcio. Soddisfatti del mercato, guardiamo ai giovani classe 2003 e 2004. Il più cordiale e ben ritrovati, edizione serale del TGM, il nostro telegiornale delle Marche, l'avete sentito dai titoli, nelle ultime 24 ore, 8 morti per Covid. Il punto nel servizio di Luigi Miozzi. Sono otto i decessi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, tutti con patologie pregresse. Di questi, cinque erano uomini e quattro donne, di età compresa tra gli 84 e 93 anni, che fanno salire a 3.361 i morti registrati dall'inizio della pandemia. Sul fronte dei contagi, invece, si registra un numero inferiore di positivi, risultato però da un numero minore di tamponi effettuati. Dal report domenicale, infatti, i nuovi contagi sono 2.268, con un indice di positività ancora molto alto, che si attesta al 39%. I test totali sono stati 6.759, di cui 5.747 nel percorso antigenico e 1.012 nel percorso guariti. La provincia di Ancona fa registrare 738 nuovi casi, segue quella di Macerata con 548, Pesaro-Urbino 406, Ascoli-Piceno 282, Fermo 211 e 83 da fuori regione. Il tasso di incidenza cumulativo è di 2.664,10 ogni 100.000 abitanti. Rimane dunque alto il numero dei contagi, anche se, dai dati registrati negli ultimi giorni, sembrerebbe raggiunto il plateau. Così, come evidenzia il direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Area Vasta 5, il dottor Claudio Angelini. Sappiamo che la variante Omicron è predominante, che risulta molto più contagiosa rispetto alla variante Delta. È pur vero che una piccola quota di variante Delta sta ancora circolando, quindi è evidente che quando questa variante, questa Omicron, ha quest'alta contagiosità, il numero dei casi aumenta sempre in funzione del numero dei tamponi che vengono effettuati. Siamo in una fase di plateau, se noi tutti i giorni facciamo lo stesso numero di tamponi, avremo gli stessi casi di positività. È evidente che se aumentassimo il numero dei tamponi, inevitabilmente avremmo un numero maggiore di soggetti positivi. Quello a cui stiamo assistendo è che i positivi non presentano sintomi, quindi è ora forse di fare una distinzione importante tra soggetto positivo e sintomatico e malato e il soggetto semplicemente positivo. Sul fronte dei ricoveri, l'aumento odierno di quelli dei reparti di terapia intensiva pone di fatto le marche in zona arancione, avendo superato il parametro della saturazione dei reparti che raggiunge il 21,09%. Livelli di guardia anche per l'area medica, arrivata al 29,3%. Salgono pertanto a 54, uno in più rispetto a ieri, i degenti in terapia intensiva, e a 296, con un più 8 rispetto al dato precedente, per quelli in area medica, per un totale di 350 ricoverati. La decisione sull'eventuale cambio di colore verrà presa venerdì prossimo dall'Istituto Superiore di Sanità e scatterà con ogni probabilità da lunedì 31 gennaio, salvo una inversione della curva. Il virus dilaga anche tra i sanitari e così. La direzione dell'ospedale Riuniti di Ancona prende provvedimenti. Ciro Montanari. Il virus dilaga tra i sanitari, con medici e infermieri che si positivizzano il Covid e la situazione agli ospedali riuniti di Ancona diventa sempre più preoccupante per la mancanza di personale. Il direttore amministrativo fa i numeri del fenomeno. Dal 2 gennaio a tutt'oggi abbiamo fuori qualcosa come 270 persone. Però questi numeri vanno un attimo contemperati da una valutazione degli stessi, perché le positivizzazioni di questo report tengono conto di dati, periodi di riferimento, che sono ormai abbastanza risalenti nel tempo. Quindi, considerando che la maggior parte di questi dipendenti si sono positivizzati con Omicron e che la stessa ha una durata media di 7-10 giorni, diciamo che questi numeri possono essere abbattuti almeno del 40-50%. Quindi oggi abbiamo fuori oltre 120-130 persone. Qual è la suddivisione tra medici e infermieri? 200 infermieri. Ripeto, di questi però almeno una quarantina sono rientrati. e cerco di dare un dato prudente. Per quanto riguarda i medici, anche qui si sono positivizzati 40 medici e anche qui si stima che 15-20 siano già rientrati. Controbilancerai questo dato con le politiche assunzionali che abbiamo subito messo in campo e quindi con le assunzioni a tempo determinato che abbiamo fatto di questa figura professionale, cioè quella delle infermieri. Una situazione insomma allarmante perché il virus circola anche tra i pazienti e fa crescere il numero di ricoverati che hanno contratto l'infezione. A riguardo, l'azienda si è mossa per garantire una programmazione sanitaria. Abbiamo definito un protocollo di intervento e di comportamento che fa in modo che anche il tampone antigenico alla fine possa liberare, fra virgolette, le persone. Ecco, passato il periodo di riferimento. Quindi senza ricorrere al molecolare che è sempre un'opzione, però c'è anche l'altra. Questo per allentare un pochino la possibilità appunto di rientro perché poi il problema è la sovrapposizione di infettati giorno dopo giorno che può portare a delle situazioni piuttosto difficili. Direi che finora noi la situazione la governiamo. Ecco, quindi come sempre non ci piangiamo addosso e cerchiamo di fare tutto il possibile giorno dopo giorno per trovare le soluzioni del caso. Da un ospedale all'altro, a quello di Fermo, con tanti pazienti Covid in attesa di ricovero. Dunque una situazione critica. Donatella Lappa. Al pronto soccorso del muri di Fermo continua l'emergenza nell'emergenza con gli accessi Covid che nel fine settimana hanno superato il numero di 20 pazienti, costringendo il primario Alessandro Valentino a dedicare al virus spazi extra tolti all'area pulita. E oggi la situazione non è migliore. In questo momento in pronto soccorso abbiamo 18 pazienti positivi accertati e un sospetto in corso di accertamenti. Sono quasi tutti i pazienti che hanno bisogno di ricovero. Almeno 15 pazienti di questi avranno bisogno di essere ricoverati. Siamo già dalle 8 di questa mattina in movimento con la direzione di presidio e con la nostra bed manager per cercare di sistemare la maggior parte di questi pazienti, sapendo che non tutti troveranno una collocazione comunque oggi. Quindi diversi rimarranno in pronto soccorso. Abbiamo dovuto allargare l'area Covid del pronto soccorso andando a rubare un ambulatorio dell'area cosiddetta pulita, dove solitamente già siamo pazienti non Covid. Ma la difficoltà non è rappresentata dal gran numero di accessi di pazienti affetti da coronavirus, bensì dalla saturazione dei posti letto in malattie infettive e nella struttura Covid di Campofilone, in cui vengono destinati pazienti non critici. Con le dimissioni di oggi di malattie infettive si spera di recuperare qualche letto. È vero che negli ultimi due giorni, nel weekend, abbiamo avuto dei numeri molto alti in pronto soccorso, però oltre ad aver avuto un accesso sicuramente importante di pazienti, abbiamo avuto la grossa difficoltà nel poterli destinare nei vari reparti di accoglienza, perché sia le nostre malattie infettive che il reparto della residenza Aniazzurri di Campofilone erano saturi e quindi i pazienti hanno dovuto rimanere in pronto soccorso. Quindi noi siamo stati messi in grossa difficoltà, ma non tanto dall'alto numero di accessi, quanto dalla impossibilità di smistare questi pazienti. Dal primo febbraio una nuova ottimizzazione del personale, seppur insufficiente da sempre, in pronto soccorso, dovrebbe consentire di migliorare la risposta assistenziale all'utenza. Vediamo adesso qual è la situazione all'ospedale di Pesaro. Thomas De Bianco. Nell'ospedale di Pesaro si parla ormai da qualche settimana di questa pressione Covid quasi al 50%, con più di 100 pazienti positivi ricoverati. Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi, è possibile un riequilibrio con il resto delle strutture ospedaliere regionali? È possibile, io me lo auspico. È una cosa che ho sottoposto al Presidente Acquaroli, all'Assessore Saltamartini, agli uffici, affinché ci possa essere un riequilibrio di questa situazione. Adesso i posti di terapia intensiva ancora non sono un numero troppo elevato, i pazienti venivano da fuori sono 5, mi sembra ad oggi, però le strutture ospedaliere assolutamente sono colme di pazienti Covid. Chiaramente paghiamo una decisione che è stata presa dalla precedente amministrazione, che non vuol dire che necessariamente deve essere confermata questo tipo di organizzazione. Io mi auspico e spero che ci possa essere una modifica per cercare di alleggerire il lavoro di questi medici, infermieri, os, di queste strutture che ormai da tempo veramente troppo lungo sopportano il peso di questa pandemia. Il sindaco di Pesaro dice che dopo un anno e mezzo di governo regionale sulla sanità non si può più dare la colpa a chi c'era prima. Assolutamente vero, però non è neanche semplice modificare un piano pandemico durante il corso della pandemia, si è deciso inizialmente di organizzare, di strutturare gli ospedali Covid, tra cui il lab di Pesaro, uno dei più importanti e quindi adesso non ci si può lamentare. Adesso sicuramente dobbiamo metterci subito mano e cercare di riequilibrare questa situazione nell'interesse di Pesaro, ma ricordiamoci anche bene che durante la prima fase pandemica tantissime persone di Pesaro sono state accolte da altri ospedali, quindi non si può sempre far finta di niente e dimenticare quando gli altri hanno aiutato noi. E poi c'è il nuovo ospedale, dopo la scelta del sito di Muralia da parte del Comitato Tecnico, ora si andrà avanti? Assolutamente sì, da quello che so gli uffici stanno andando avanti in maniera molto celere, quindi andiamo avanti celeremente su questo progetto, ma non dimentichiamo tutto quello che compete all'organizzazione territoriale della sanità marchigiana, in questo caso Pesarese. Cambiamo argomento, è attesa per domani, martedì, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazione del dottor Giuseppe Rossi, accusato di aver gettato i vaccini. Stefania Serino. Se Giuseppe Rossi può o meno tornare a casa, lo si saprà solo domani, quando il Tribunale della Libertà di Ancona sarà chiamato ad esprimersi sull'istanza di riesame presentata dai suoi difensori. Gli avvocati Lavinia Tarli e Lumberto Gramenzi hanno chiesto la concessione dei domiciliari per il medico arrestato lo scorso 4 gennaio, perché sospettato di aver rilasciato certificati per l'ottenimento di Green Pass senza inoculare i vaccini. I legali dell'indagato hanno motivato la loro richiesta evidenziando le condizioni di salute del medico che non sarebbero compatibili con il regime carcerario. Alle indagini si aggiunge un tassello importante con la confessione del dottor Rossi, che ha dichiarato che gli interessati gli davano per il disturbo spontaneamente 100 euro, cifra da lui stesso chiesta attraverso Maurizio Strappelli, il presunto mediatore che avrebbe accompagnato la maggior parte di loro nello studio del medico per firmare il consenso informato. Una confessione, quella resa da Rossi, che fa tremare gli altri 72 indagati. Il timore è che all'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale si aggiunga quella di corruzione. Anche se la procura sa bene che le dichiarazioni spontanee hanno valore probatorio in caso di processo con rito abbreviato, che prevede lo sconto di pena di un terzo, ma non in un processo ordinario dove lo stesso deve ribadire le sue dichiarazioni. La corruzione di pubblico ufficiale prevede una pena che va da un minimo di 6 a un massimo di 10 anni di reclusione, quella di falso ideologico da 1 a 6 anni. Bolognola meta per famiglie, tanti turisti umbri nel maceratese una domenica da tutto esaurito sulla neve. Daniela Gurini Una stagione partita un po' in sordina, tra restrizioni governative e neve che si è fatta attendere. A Bolognola il turismo invernale si è fatto vedere numeroso, una partenza a singhiozzo nel mese di dicembre che procede benissimo nei weekend di gennaio, con tanta gente da tutte le Marche e dall'Umbria che viene a divertirsi sulla neve o magari al ritrovo all'aperto con musica e cocktail in mano. La stagione è partita bene, non abbiamo tantissima neve ma abbiamo la pista 1 innevata con neve artificiale, veramente bellissima. Abbiamo una neve proprio spettacolare, farinosa. Questa pista è ideale proprio per le famiglie, per i principianti. Noi abbiamo già fatto comunque prima di Natale due settimane di apertura in pianti perché abbiamo aperto l'8 dicembre, poi siamo stati aperti fino al 24. Ahimè proprio durante le feste di Natale il caldo ha un po' rovinato i piani, però abbiamo poi dai primi di gennaio ripreso l'attività e speriamo che arrivi altra neve per poter aprire anche le altre piste. La splendida giornata di sole ha stimolato tantissima gente, anche i non sciatori, a divertirsi mantenendo la mascherina anche all'aperto, forse anche un po' per proteggersi dal freddo. Il Green Pass, controllato all'esterno delle strutture, ha reso possibile l'accesso ad ogni attività. La gente è stata abbastanza rispettosa delle regole e noi, d'altro canto, abbiamo messo del nostro personale al controllo dei Green Pass sia all'esterno delle biglietterie, sia anche all'esterno all'ingresso dei locali, appunto anche dello Zeta Chalet. Il turismo invernale è fondamentale per l'economia delle montagne e i numeri, seppur contenuti, sono una risorsa da mantenere e valorizzare. Sì, abbiamo tanti turisti che vengono un po' da tutta la regione, ma abbiamo anche tanti Umbri che, appunto, grazie anche alla nuova superstrada, riescono ad arrivare con un'ora di auto, sia da Foligno, da Perugia, da Spoletore. C'è il progetto di aprire anche altre località limitrofe? A quando i prossimi step? La nostra società, sì, ha preso in gestione anche gli impianti di Frontignano, stiamo lavorando in maniera molto intensa per poter aprire i primi di febbraio, ecco, aspettiamo, ormai i lavori sono quasi ultimati, aspettiamo i collaudi Ustif che arrivino il prima possibile per poter sfruttare almeno l'ultima parte della stagione invernale. I rincari bolletti hanno colpito tutti, società in particolar modo, voi che con l'elettricità, diciamo, ci lavorate parecchio, come sta andando? Beh, sicuramente è stata una bella stangata, perché comunque i costi gestionali sono aumentati considerevolmente, oltretutto quest'anno che abbiamo avuto la necessità di azionare molte volte l'impianto di nevamento artificiale, quindi questo ha fatto salire molti costi, però abbiamo deciso anche per una nostra politica di mantenere il prezzo dello schipassi invariato rispetto all'anno scorso. Cambiamo argomento, le concessioni balneari, la regione fa il primo passo, ora la battaglia si trasferisce in Parlamento. Vediamo. Sulle concessioni balneari il primo passo è fatto, ora la battaglia proseguirà in Parlamento. E questa è la sintesi delle reazioni, dopo l'approvazione unanime da parte del Consiglio regionale, di una risoluzione a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato del 9 novembre scorso, con le quali si stabilisce la proroga delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2023. Un risultato che soddisfa in particolare il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, che assieme a Lega e i gruppi civici, ha presentato una mozione, con la quale si impegna il Presidente e la Giunta ad attivare la conferenza Stato-Legioni per una rapida soluzione del problema e in particolare per l'approvazione di un atto normativo che consenta di valorizzare l'esperienza professionale e il patrimonio di conoscenza di chi ha già svolto attività di gestione dei beni rimaniali. C'è un'applicazione da parte del governo di una direttiva che si applica in realtà ai servizi e non ai beni. Questo Fratelli d'Italia lo contesta anche a livello nazionale e chiede un intervento forte del governo. Il nostro Presidente Acquaroli porrà il tema all'interno della conferenza Stato-Regioni per trovare una soluzione che tuteli una peculiarità e non ponga una discrepanza fra stati e competitor sul mondo del turismo sull'applicazione della direttiva. Sulle nostre coste, 8.000 km di coste quasi, si tratta di un'economia sul mare che è importantissima per la nostra nazione. È un'economia sicuramente minore, nel senso spezzettata, di tante aziende familiari, piccole, difficilmente medio-grandi, che costituiscono un'quota importante del nostro PIL. Apriamo la pagina sportiva con il volley perché la Lube vissa il successo di Piacenza e a Civitanova batte anche Monza, adesso per i cucinieri la Champions. Vediamo. La Lube Civitanova schianta la vero volley Monza nell'undicesima giornata di ritorno di Superlega e lo fa col massimo scarto. 25-19, 25-19, 25-17 i parziali in un'ora e 17 minuti di gioco. La squadra di Blengini si prende la rivincita dopo il capo con i Brianzoli in Supercoppa e mantiene il secondo posto solitario a quota 37, 4 sotto la capolista Perugia. Tutto facile per i campioni d'Italia davanti ai 1.123 spettatori dell'Eurosuole Forum di Civitanova Marche con 8 Ace e Ivan Zayzev, grande protagonista MVP finale della sfida. 15 i punti firmati dallo schiacciatore. Guantorina e Covar sono ancora indisponibile. Coach Blengini ritrova Anzani, anche se solo per la panchina, e ripropone il sestetto che mercoledì scorso ha superato Piacenza. I campioni d'Italia pongono le basi per la vittoria, la dodicesima, in Superlega da subito con un fantastico turno al servizio di Zayzev Dueis che li spinge sino al 7-1. Il secondo set è la fotocopia del primo con lo strappo della lube firmato nuovamente dalla battuta dello Zara. Il terzo parziale è il più equilibrato della gara ma solo fino al 10 pari. Poi Jant, top scorer finale con 19 punti, 74% in attacco, apre le porte all'allungo decisivo. In questo campionato non è mai scontato e quindi questo è l'aspetto più importante. Poi credo anche l'impatto della squadra sulla partita perché le partite si sa che quando si impattano col favore del pronostico, anche se c'è la questione dell'infermeria, comunque sono partite che se non si impattano bene e poi dopo si rincorre, ci si nervosisce e non si riesce a trovare il ritmo di gara. Dopo domani alle 19.30 a Civitanova torna alla Champions League. Mercoledì abbiamo la partita contro Maribor, vediamo di riposarci questa sera e di prepararla per bene, visto che siamo in testa al girone di Champions, anche quella è una competizione molto importante, purtroppo la Coppa Italia c'è sfuggita, ci rimane lo scudetto della Champions e dobbiamo concentrarci su quei due obiettivi assolutamente prioritari. Il calcio, quello di Serie B per l'Ascoli, la quarta operazione in uscita del mercato invernale, manca solo l'ufficialità, il difensore greco 32enne Anastasios Avlonitis dopo quasi un anno e mezzo lascerà le marche, trovato l'accordo per la cessione all'Apollon-Limasol, squadra in testa al massimo campionato Cipriote. In questo torneo Avlonitis ha giocato 16 partite, con la maglia bianconera inclusa a quella di Coppa Italia-Udi nello scorso agosto. 15 invece le presenze del difensore la passata stagione. Adesso il calcio di Serie D, perché la Sam dopo lo 0-0 col Pineto deve dare priorità al mercato degli under. Mr. Visi, ospite ieri sera a cuore di calcio, ha ribadito che i rosso-blu stanno pensando al cambio di modulo. Vediamo. Classifica ancora preoccupante, basta leggere il quarto ultimo posto, anche se la distanza dalla salvezza diretta è passata da 2 a 1 lunghezza. La Samba prova a prendere il buono che c'è dallo 0-0 col Pineto, il terzo risultato utile e consecutivo della coppia Alfonsi-Visi, bottino da 7 punti. E poi la porta chiusa per la seconda volta consecutiva a Riviera, 1-0 al Tolentino e l'ultimo pari senza reti. Al netto dei problemi, ovvero le 6 a senza e 6, il punto col Pineto, ottavo, può tutto sommato andare bene, nero su blu, in versione sperimentale per la prima del 2022, l'ultima del girone di andata. Intanto va chiuso un mercato rivoluzionario con 8 arrivi e 10 partenze e la priorità restano gli under, due, forse tre. Il terzino sinistro del 2003, intanto con l'assalto a Francesco De Marco del Perugio, rimprestito alla Primavera del Napoli, che chissà se darà i suoi frutti. Le alternative, l'ex Foligno e Torres ed Edoardita e un paio di profili dall'eccellenza. Poi un terzo portiere e magari anche altro, come ha confermato Stefano Visi durante Cuore di Calcio. per un progetto futuro, che è anche un'annata come, che potrebbe essere un 2004. Vediamo, noi con la società siamo in contatto quotidianamente, cerchiamo di fare il meglio, questo sempre. Siamo soddisfatti dei ragazzi che sono arrivati, siamo soddisfatti dei ragazzi che sono voluti rimanere con noi e però insomma, adesso bisogna portare punti a casa. E dunque pure un 2004. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità della riapertura del mercato di lettanti dal 26 gennaio al 10 febbraio. Ma dicevamo, Samb sperimentale col Pineto. Anche perché la coppia Visi e Alfonsi medita il cambio di modulo. Per esempio il trequartista più Cardella al fianco di Fall sottoporta. Ma non solo. L'arrivo di Diego con Zon ci può aprire altre soluzioni. Ovvero la difesa a tre, visto che la Samba ha cinque centrali, citato con Son, Tomas, Sgrablitz, Varga e Pica, modulo o no, servono punti per risalire. Quattro delle prossime cinque gare si giocheranno in casa, dove sono arrivati i 14 dei 19 punti in classifica. calendario tosto però contro le prime della classe. La Samba avrà modo di pesare mercato e ambizioni del futuro prossimo. Ed era questo il nostro ultimo servizio. Mi fermo qui. Grazie per averci seguito. Vi auguro buon proseguimento sul canale 79.